Secondo spazio del Bianco e Rosso Tibisport con il mio ospite Gigi Frisini, ci eravamo lasciati con le parole del direttore sportivo del Bari Guido Angelozzi, ti chiedo un commento Gigi soprattutto anche al riferimento che ha fatto Angelozzi al riguardo del calcio scommesso. Non parlo dell'analisi tecnica che ha fatto perché sicuramente lui meglio di tanti altri conosce i giocatori che ha preso e roba del genere, però mi fa piacere che ha cambiato linea perché in tempi andati l'ha definito Birichini, adesso l'ha definito Truffaldini, si è reso conto anche lui del danno che abbiamo avuto e mi auguro che possa essere coerente anche nelle future dichiarazioni perché è il problema in cui la gente vuole sapere di che morte dobbiamo morire. E infatti il problema è proprio questo, lo affronteremo tra pochissimo, abbiamo un ascoltatore in linea, pronto? Sì Pronto? Pronto? Sì, ti sentiamo, vai. Sì, volevo invitare tutti quanti tifosi a venire per l'ultima partita allo stadio sabato sera per incitare la squadra all'aggiungimento di questa ormai salvezza, poi volevo salutare tetto di Polignano, Raffaele e il grande Michele, il nostro caposquadro. E tutti i ragazzi della FAPA. Va bene, grazie, grazie per il tuo intervento, Gigi, Baricubbio. Ma io ti dico francamente, volevo lanciare, se ti costa attenzio, un referendum se riusciamo a raggiungere le 10 presenti. Però mi auguro che adesso, a prescindere l'importanza della partita, che è molto ma molto relativa, perché non fa risultato, a parte che dovremmo perdere, e l'Empoli dovrebbe fare otto gol, o Dio, in un clima di calcio scommesso non è che mi meraviglia più di niente, insomma. Il Bari rischierebbe solo, se dovesse perdere con il Gubbio, un pareggio dell'Ascoli, una vittoria dell'Empoli, in quel caso tre squadre a parità di punti, il Bari per la classifica Wulz rischierebbe di fare i play-out. In caso invece di parità di punti con l'Empoli, il Bari come differenzarete, ovviamente, sarebbe salvo. Però, Gigi, è davvero incredibile dover aspettare la salvezza all'ultima giornata del campionato. Beh, beh, però questo ti riporta le dichiarazioni entusiastiche del tandem Torrente-Angelozzi alla fine della seconda partita, che noi abbiamo fatto la prima partita, 0-0 gol Varesse, seconda partita abbiamo vinto in maniera rocambolesca a Modena, abbiamo fatto dichiarazioni, questa è una squadra play-out, senza prendere nessuna punta. Da play-off. Sono due anni che non prendiamo punte. Eh sì. 085-01-9998 il numero per intervenire in diretta. Certo che Gigi il Bari potrebbe chiudere... Sì, è partito intanto la telefonata, abbiamo già capito il che schifo, che schifo, si è interrotto. Che schifo, che schifo. Eccolo qui, come... Mi auguro che alla fine tolga veramente la maschera, perché a parte tutto, effettivamente quando non telefono ci manca. Gigi, dicevo, il Bari potrebbe chiudere il campionato a sei lunghezze di vantaggio, diciamo, sulla quart'ultima, sulla zona a rischio. La speranza è che le sentenze del calcio scommesse non tocchino alla fine questo campionato, perché il Bari alla fine si sta mettendo davvero nelle condizioni peggiori, se ce la vogliono far pagare. Enzo, normalmente un antico proverbio di Bari diceva che Ucano Mazzia si è ammazzato. Cioè, in questo momento noi siamo praticamente nel centro di tutte le polemiche, a prescindere quelle calcistiche, tra polemiche a livello politico e rovegine. E mi auguro che almeno nel calcio ci riservino un trattamento, non dico di riguardo, anche perché di tutti i giocatori che sono passati negli ultimi dieci anni a Bari, sono quasi tutti convolti. Mi riferisco a parecchi di quelli degli anni passati. Certo, è vero. Abbiamo un altro ascoltatore in Lina. Pronto? Sì, salve. Ciao Daniele, saluto a tutti. Ciao Daniele. Grazie. Volevo sapere questo, ma per il prossimo anno, per scendere questa partita col Gubbio, che mi sembra una crepinata, non vincere oppure neanche pareggiare, ma per il prossimo anno quanti calciatori potrebbero rimanere a Bari se va via Torrenti? Grazie, grazie per il tuo intervento, però Gigi, più che parlare di calciature e di allenature, bisogna capire davvero cosa vuole fare la società l'anno prossimo, perché in questo momento c'è un disimpegno della famiglia Matarrese, prospettive non se ne vedono. Il problema è capire, perché normalmente quando c'è un accenno di programmazione il direttore sportivo non sta con la prima squadra e gira alla ricerca di qualcosa o di qualcuno. Ma qui in programmazione non c'è? Caputo è nostro, Albadone è nostro, Galano è nostro, Bellome è nostro e poi a livello giovanile sinceramente c'è molto ma molto poco in primavera. Il problema è che si continuerà a navigare a vista, questo ovviamente a discapito. Io mi auguro che alla fine del campionato qualcuno della società si faccia viva e dica le cose come stanno, perché stare in questo clima di incertezza crea sicuramente problemi, problemi a tutti. Abbiamo un altro ascolto Tonelina, pronto? Sì, buongiorno, sono Michele. Ciao Michele. Io chiamo semplicemente per ringraziare le tante parole che Di Gennaro stavattina ha detto, che ogni volta che lo invitate… Sì, Antonio Di Gennaro è intervenuto nel corso di B&G, è stato abbastanza deciso e chiaro, sì. Vorrei che lo foste tutti quanti, anche voi giornalisti, so che per voi è un po' più difficile, però vorrei che avesse tutti quanti, almeno voi che avete le potenzialità e i mezzi per farlo, che avesse la forza di Di Gennaro, anzi, con il nuovo canale su Di Gennaro vorrei che ci fosse proprio un posto fisso per lui, l'unico modo per salvare il Bari, perché a questo punto sarebbe meglio retrocedere, perché oggi, ancora più degli altri anni, serve che i Mattaresi vadano a casa, perché smantellando la squadra o no, ma chi è quello stupido giocatore che viene a Bari con il rischio di non prendere stipendio e con il rischio di prendere minacce? Ditemi voi chi verrà a Bari? Nessuno, neanche il più ciuccio dei calciatori. Michele, grazie, è stato chiaro, grazie per il tuo intervento, Gigi, ovvio, bisognerebbe spingere in una certa direzione, un po' tutti, però bisogna capire anche chi è disposto poi a rilevare questa società. Ma perché la situazione è nebulosa, come ho sempre detto, la società dice che vuole vendere, però chiarezza non ce n'è, a quanto, ma il problema non è quello, il problema è che ci sono un sacco di problemi, poi fino alla fine, il problema dello Stato... bisogna capire il periodo di crisi che c'è e poi alla fine le dichiarazioni del giornale sono dettate da uno che pur avendo vinto il campionato col Verone, risiede a Bari, vive a Bari, la sua famiglia vive a Bari, è attaccato e delegato al Bari come siamo legati tutti noi, a maggior ragione lui che ha un'esperienza ad un giro di rivela e ne parlo non perché con Antonio sono amico, perché ben a me io mi rendo conto che Antonio parlando del Bari ne soffre, perché Banomaro ormai è integrato a Bari. Certo, ovviamente ci mette sempre la faccia, un po' come comunque fai tu Gigi, 080-501-9998 il numero per intervenire in diretta, abbiamo un altro ascolto tunnelina, pronto? Ciao Cristian, un saluto a Gigi Frisini e a Bari. Ciao Roberto. L'esempio è quello del Pescara, fallita nel 2008, nel 2012 in Serie A dopo quasi 20 anni, se ce n'è riuscita una piazza come Pescara ce la può fare anche Bari, l'importante è avere una situazione chiara, precisa, limpida dal punto di vista economico della società, perché oggi chiunque si vuole affacciare per rilevare il Bari non capisce niente da dove deve partire, quanti soldi deve mettere, quanti debiti ci sono, è tutto incerto. Grazie, grazie Roberto, grazie per il tuo intervento, stiamo intanto vedendo le immagini della festa del Pescara ieri in Serie A, un grande Zeman. Roberto Gioca Mezzaro mi ha dato un assist in credito, ripeto per l'ennesima volta. Gigi ci vuole programmazione, qui non c'è. Però l'anno scorso, all'inizio del campionato scorso, cioè praticamente a luglio, ma è una notizia certa, mi sa che abbiamo tenuto stand by per una decina di giorni il tandem Pavone-Zeman, poi qualcuno in società, non so chi è stato o meno, ha definito Zeman bollito, ecco cosa ha combinato il bollito di turno. Zeman che ha dedicato peraltro la pronunzione in Serie A a Franco Mancini, sono state davvero delle belle immagini, anche toccanti, vedere Zeman in lacrime, no Gigi? Ha fatto davvero un miracolo lui. Zeman in lacrime è una novità perché è sempre stato molto duro ed è uno che effettivamente nel calcio italiano ha sempre avuto il coraggio di dire quello che ha pensato, come tanti altri. L'unico problema è che lui è coerente con la sua linea, però effettivamente un consiglio, se sono all'altezza di poterlo dare, è rimanere a Pescara perché in altre situazioni non gli darebbe la tranquillità che gli hanno dato a Pescara. Gigi, però mai promozione è stata più meritata perché sul campo il Pescara davvero ha mostrato il miglior calcio. Tutti i giocatori, i 3-4 giocatori che aveva a Foggia con lui gli hanno dato e poi le società fanno a gara dare i giovani a Zeman perché sanno che bene o male Zeman li prende e li praticamente li fa diventare cogio e riesce a recuperare. Anche i giocatori tipo Cascione che erano diventati le meteo e sono diventate le certezze. E poi, vabbè, è salito anche Ventura con il Torino, però con quella squadra non poteva fallire l'obiettivo. Ma insomma, mi auguro che Ventura, contrariamente a ciò che si pensa di lui, possa fare un buon camminza perché normalmente il secondo anno di Ventura sembra una tragedia. Dobbiamo fermarci un attimo, pubblicità, a tra poco con la terza ed ultima parte del Bianco e il Rosso TV Sport.